La preghiera del ringraziamento comincia sempre da qui, dal riconoscersi preceduti della grazia. Siamo stati pensati prima che imparassimo a pensare. Siamo stati amati prima che imparassimo a amare. Siamo stati desiderati prima che nel nostro cuore spuntasse un desiderio. Se guardiamo la vita così, allora il grazie diventa il motivo conduttore delle nostre giornate. Grazie. E tante volte dimentichiamo pure di dire grazie.